Pilota, pilota, mi serve assistenza. Forse la sicurezza automatizzata di questo posto ha trovato un tight. Meno lavoro per noi. Datemi da fare! Cosa è visuale? Non lo vedo! Non lo faccio non cappare! Cosa è visuale? Cosa è visuale? Cosa è visuale? pilota cooper se mi senti mi stanno portando nella sottostazione questa doveva essere una scorciatoia pt forse lastimosa aveva ragione nessun piano sopravvive al primo contatto bt come ti raggiungo segui le conduttore nei livelli inferiori attenzione sto perdendo l'onda un po' Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Pilota, pilota, tutto bene? Fortuna che ho, questo posto si capovolgerà. O ribalterà, viste le circostanze. Ti vedo pilota, ammiro la tua perseveranza, c'è solo la batteria degli amici, scusate in gente. C'è solo una via riuscita, pilota, in alto. Le scansioni indicano che la cupola sovrastante è la migliore soluzione per trovare un'uscita. Ti consiglio di raggiungerla con ogni mezzo. Grazie. 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 Grazie.